Buongiorno a tutti, qui è Arduino Schenato da IRforex.com in questo trading video oggi vado a farti vedere che cosa significa fare trading su una pin bar a 4 ore direttamente sulla coppia dollaro yen, questa è una posizione tra l'altro che ho tradato nel recente passato, che ho condiviso nell'area platinum e che però mi piace rifocalizzare e rivedere con voi quello che è stato un po' il mio trade, anche perché questo trade va appunto nell'ottica di come andare a tradare una delle modalità delle pin bar, in questo caso noi abbiamo un mercato, come potete vedere la pin bar è quella segnata in verde sul grafico, quindi questa, e in questo caso abbiamo un mercato che aveva fatto, quindi nel grafico daily mi raccomando, dei minimi di swing e dei massimi di swing quindi swing low, swing high, swing low, swing high poi avevamo avuto una certa lateralità, quindi una chiara base e poi un top pin bar che è anche un inside fake out andava a violare totalmente tutti i minimi precedenti ritornando praticamente al di sopra dei 107 e mezzo che era il livello precedente e formando una chiara bugia del mercato e quindi una chiara pin bar in questo caso io che cosa ho fatto e quindi il modo poi di andare a tradare sono andato alla ricerca di una dinamica di prezzo molto interessante sul grafico a 4 ore e in questo caso ho trovato un'altra pin bar proprio in linea che confermava la dinamica e quindi cosa ho fatto sono andato arriviamo subito eccolo qua sono andato qui quindi questa è la giornata della pin bar il giorno dopo il mercato ha ritracciato e come potete ben vedere proprio qui ha creato una pin bar che teneva quindi il movimento a pin bar sul daily ritracciamento in questo caso arrivo sulla zona interessante quindi 107 e mezzo e qui nuova pin bar in trend swing low swing high ritracciamento swing low che ci permetteva di entrare sul breakout del massimo della pin bar e posizionare uno stop direi ridicolo in questo caso sotto il minimo della pin bar quindi in questo caso poi si ovviamente adesso vedremo se poteva gestire ma la cosa bella è che abbiamo avuto una chiara pin bar a 4 ore che confermava la pin bar daily questo ovviamente poteva anche non essere una pin bar ma volevo mostrarti quale pin bar a 4 ore possono essere le più interessanti quindi movimento io in questo caso specifico quindi sono entrato qui diciamo e ho lo stop qui lo faccio così perché così poi sul daily si può notare bene il tutto vediamo se riesco a spostarlo ecco qua benissimo quindi questo è il tipo di posizionamento significa che su una pin bar a 4 ore in questo caso confermativa di una pin bar daily e di una dinamica daily di rialzo ok questo è molto importante la struttura precedente 107.74 con uno stop intorno ai 107.34 quindi circa 40 pip di stop loss di rischio vado praticamente a rivedere guardate un po' qui se avessi tradato la pin bar daily a breakout avrei avuto un'entrata 107.90 all'incirca con uno stop all'incirca 107.05 107.04 con 86 87 90 pip di stop invece di 40 quindi stiamo parlando praticamente di uno stop ridotto della metà se non qualche pip in più della metà e quindi la possibilità di fare un trade con un rapporto di risk reward anche preventivo del progetto molto interessante nonché avere una conferma in più che la dinamica del breve è quella di tenuto del livello e di bugia e di recupero perché nelle 4 ore poi noi avendo avuto questa conferma riusciamo ad avere un input in più nel brevissimo termine in questo caso che è la 4 ore del daily che ci dice compra quindi in questo caso molto interessante perché come si può notare abbiamo questa zona di acquisto questa zona di stop e quindi se voi andate a prendere anche proprio da un punto di vista di risk reward sul primo livello chiave avremo avuto un rischio nel caso in cui si rischiava 1 raddoppiato sul livello successivo per 3 e via dicendo in questo caso però già il per 2 questo movimento sarebbe stato veramente molto interessante che invece avendo mantenuto esclusivamente la pinbar daily non avremmo avuto perché per fare solamente un 1 a 2 se voi andate a prendere proprio questa questa situazione qui quindi in questo caso 86 pip per farne 86 avrei dovuto andare fino a qui no? e per farne 170 circa che è circa un 1 a 2 dovrei essere andato a portare il prezzo fino a qui per carità c'è arrivato ma in questo caso il 1 a 2 lo portò a casa direttamente sul primo livello quindi stiamo meno a mercato rapporto ROI-T molto molto interessante super direi in questo caso e conferma della conferma in una dinamica long quindi la cosa importante è quella che nelle pinbar per esempio in questo caso daily poteva essere anche un altro segnale in questo caso mi sono soffermato sulle pinbar abbiamo una dinamica interessante su 4 ore che in questo caso una pinbar in una dinamica di struttura rialzista di swing low e di swing high falsa lottura e movimento questo è quello che noi facciamo in Airforex questo è quello che faccio ormai da 15 anni e spero di essere stato chiaro con il tipo di dinamica se volete approfondire queste dinamiche noi le vediamo ogni giorno in training room sulla scuola Platinum di Airforex quindi vi aspetto e ci vediamo comunque al prossimo video non dimenticate di mettere mi piace a questo video e magari di commentare anche magari chiedendo qualche dinamica che volete approfondire io vi saluto vi auguro una buona giornata e un buon trading simple alla prossima e un buon e un buon